Buongiorno dalla Malomacchine, oggi vi mostriamo i Transpallet. Abbiamo in pronta consegna quelli manuali da 25 quintali oppure il Transpallet elettrico che adesso vi mostro l'utilizzo. Semplicissimo, basta accendere la batteria che è portatile, per cui al momento che si scarica è una valigetta da alzare semplicemente, girare la chiave e con questa semplice levetta si sposta avanti oppure indietro. Naturalmente non sarebbe elettrico se non fosse un funzionamento super pratico. Per alzare le porche basta cliccare il pulsantino. Ecco qui, comodità, semplicità e naturalmente minor fatica. Venite qui a trovarsi alla Malomacchine, siamo a Malo in provincia di Vicenza. Un saluto da Denise e dalla Malomacchine.